di undertraining è sempre bellissimo vedere il conto alla rovescia prima di una diretta oggi siamo qua con voi sono qua con il nostro Matteo D'Auria ciao Matteo ciao a tutti ciao a tutti Matteo oggi di che cosa parleremo perché i tuoi diciamo i tuoi topic sono sempre molto indirizzati verso appunto la massa l'aumento di massa muscolare oggi di che cosa parleremo di interessante perché questo è un argomento veramente molto interessante se oggi andremo a parlare di un integratore che già abbiamo fatto in qualche diretta fa che è la creatina quindi oggi parleremo di questo integratore andremo a vedere un pochino studi che sono stati fatti e i dosaggi consigliati massimi minimi e per chi può fare bene che benefici può andare a portare ok bene bene allora prima di tutto magari diciamo un po' che cosa cioè che cos'è la creatina cioè la creatina è un integratore che è formato da degli aminoacidi quindi eh quindi quando noi pensiamo a la creatina dobbiamo sempre pensare a un insieme di eh di mattoncini quindi di aminoacidi che formano questo questa eh molecola questo altro eh questo insieme di aminoacidi che è composto appunto da metionina glicina e arginina quindi questi qua sono i tre aminoacidi fondamentali per eh costituire appunto la creatina quindi partendo da qui sappiamo che ne abbiamo un quantitativo abbastanza elevato eh nella muscolatura quindi il muscolo scheletrico e eh infatti la concentrazione Matteo di eh creatina all'interno del muscolo secco quindi tolto tutti i liquidi eccetera eccetera di circa cento centocinquanta millimoli per chilogrammo di peso secco e eh la troviamo all'interno dei muscoli intorno al sessanta sessantacinque per cento del contenuto totale eh viene definita fosforilata cioè troviamo la fosfocreatina che è quella che serve a risintetizzare molto rapidamente l'ATP quindi quella che mi serve a dare energia rapida veloce eh in però che dura purtroppo per poco tempo perché dura intorno massimo ai cinque dieci secondi. L'altro effetto grande della creatina è che è una sostanza tampone cioè aiuta a tamponare gli ioni idrogeno quando facciamo eh allenamenti di alta intensità quindi quando la glicolisi anaerobica funziona tanto la creatina va a tamponare proprio quelli che sono gli ioni idrogeno che vengono prodotti quindi riduce diciamo l'acidità. Ecco detto questo Matteo passo un po' la palla la palla a te. Raccontaci un po' appunto la creatina perché è importante come si utilizza eccetera eccetera tutto quello che ci vuoi raccontare. Ok sì allora prima di tutto ora vuol dire che la creatina è uno degli integratori che viene molto utilizzato dai team ma anche dalle persone che magari si allenano in paletti e che cos'è la creatina? La creatina è un integratore che aumenta come abbiamo già detto come già detto prima tu eh la concentrazione intraunuscolare di creatina che porta a un miglioramento della prestazione specie per magari le attività ad alta intensità che portano poi a degli adattamenti all'allenamento quindi a un miglioramento. Nelle ricerche si è potuto vedere che facendo come integratore la creatrice eh eh nel post esercizio a migliorare il recupero che prevenire degli infortuni. Oltre a questo si è potuto vedere che utilizzando l'integrazione di creativi aiuta anche un pochino nella riabilitazione anche per quanto riguarda le malattie neurodegenerative. Questo è un pochino quello che si è potuto vedere nei studi che sono stati fatti. Può essere autorizzata sia crescenti che da persone adulti a creare nessun tipo di problema. Questo è un pochino per far capire un attimino a cosa può essere servita e a che persone può andare a bene. Ecco Matteo noi ti vediamo un po' bloccato ma l'audio per ora lo sentiamo ancora. Qualora dovessimo avere problemi casomenti ti chiamiamo al telefono va bene? Eh sì purtroppo le connessioni in questo periodo non sono il massimo. Esatto è tranquillo quindi casomenti ci colleghiamo al telefono se dovessimo sentire male ok? Perfetto. Ok 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 comunque stavo dicendo che cos'è la creatina? Come già tu hai detto la creatina è un aminoacido è un aminoacido non proteico che si trova principalmente se noi dobbiamo cercarlo in qualche alimento in quale alimento lo troviamo? Nella carne rossa e nei frutti di mare qui dove ne troviamo una maggior concentrazione. La maggior parte della creatina si trova nel nostro muscolo scheletrico infatti un 95 per cento con piccola anche nel cervello piccoli. Questo per avere un'idea di dove fare. E qua ne abbiamo una connessione. Facciamo una cosa ti faccio chiamare prova a farci una chiamata perché ti sentiamo saltare a pezzi quindi sembra che non si riescano a capire le cose. Prova a uscire da qui e chiamaci al numero, al numero dei numeri che ti ho lasciato. Ok grazie Teo. Allora stavamo parlando quindi un pochino della creatina la troviamo quindi come abbiamo visto se la dobbiamo cercare in qualche alimento la troviamo in rossa e nei frutti di mare e invece all'interno del nostro corpo lo troviamo principalmente nel muscolo scheletrico e in piccole quantità anche nel cervello e nei nostri nel rapporto maschile quindi nei testicoli. Quindi qua è dove troviamo una maggior concentrazione. Si sente meglio adesso si sente meglio bene così almeno riusciamo a sentire. Ok meno male. Ok. Allora ad esempio se noi dobbiamo cercare come quanto se ne consiglia di andare ad esempio ad di integrare ad assumere quantitivo di creatina. Se noi dobbiamo almeno andare ad interrodurre tra 1 e 3 grammi al giorno per mantenere le normali riserve di creatina all'interno del nostro muscolo. Se noi dobbiamo ad esempio andare a mangiare della carne per andare a prenderne 1 o 2 grammi dovremmo andare a mangiare ben mezzo chilo di manzo o di salmone. Ne parliamo di mezzo chilo di carne a crudo quindi è già un bel quantitativo. Per questo allora delle volte in alcune persone magari bisogna andare a fare una supplementazione. E in quale persone può essere? Ad esempio per chi ha un'alimentazione di tipo vegetariana quindi in questo caso siccome se ne trova in quantitativi minori all'interno di alimentare ecco magari per loro una supplementazione di creatina può essere utile. Ecco Matteo possiamo dire anche questa cosa che comunque sia se ci dovesse essere una carenza quindi giornalmente non si dovessero introdurre quel 1 o 2 grammi consigliati con l'alimentazione comunque dobbiamo dire che si forma appunto anche dagli altri aminoacidi e quindi teoricamente è difficile averne una carenza. Però su un'attività sportiva poi può essere anche interessante e poi vedremo anche perché. Infatti si è visto da alcuni studi che anche ad esempio alcuni atleti avere invece bisogno di un dosaggio maggiore anche di 5-10 grammi al giorno bisogno come quantitativo. Questo dipende sempre un pochino anche dall'attività fisica e sportiva che si va a fare. E un altro bisogno che si può anche avere visto che ne abbiamo parlato prima di anche di alcune malattie alcune popolazioni quindi alcune persone che hanno problemi fisici come abbiamo parlato prima per quanto riguarda problemi relativi o via dicendo problemi anche di ischemia cerebrale si è visto in alcuni casi che si può anche arrivare dei dosaggi dai 10 ai 30 grammi al giorno. Questo dipende dal tipo di patologia che la persona ha. Questo è un attimino dagli studi quello che si è potuto vedere. Questo è per avere un'idea dei dosaggi e di quello quantitativo che uno può andare a assumere in base a persona a persona e anche al tipo di attività fisica che sta andando a fare. Questo è un attimino quello che si è visto. Però se dobbiamo andare a cercare di capire quant'è il dosaggio richiesto per una persona quando va a fare esempio dell'attività fisica e come andarla a assumere adesso andiamo un attimino a vedere bene in dettaglio. Come abbiamo visto prima in una dieta normale più o meno si può contenere dagli 1 ai 2 grammi di creatina al giorno in deposito di creatina muscolare in questo caso stiamo parlando. Il modo più efficace per andare ad aumentare le riserve muscolari di creatina è quello di ingerire 5 grammi di creatina in questo caso parliamo della monohidrato perché è quella più studiata ed è anche quella dove sono stati fatti più studi ed è di circa 0,3 grammi per chilo di peso corporeo al giorno questo per 5-7 giorni e il quantitativo qua serve per andare a riempire bene tutte le riserve intramuscolari ecco diciamo questo è un prima fase di Matteo diciamo anche un po' le fonti diciamo scientifiche da dove arrivano un po' queste nozioni perché l'International Society of Sport Nutrition ha creato una sorta di guida dove appunto ci ha spiegato tutti i quantitativi che possono essere utilizzati e una sorta di review che ha portato appunto a capire e a rivedere alcune un bel quantitativo di ricerche scientifiche che servono sono servite proprio per capire i quantitativi l'efficacia della creatina quindi questo è un po' quello che mi interessava dirlo perché è giusto anche fare riferimento alla fonte scientifica sì sì giusto giusto ok vai pure allora quello che stavamo dicendo che il metodo più rapido per andare ad aumentare le riserve muscolari di creatina può essere quello di consumare dai 0,3 grammi per chilo di peso corporeo al giorno di creatina monidrato per 5 giorni qui questo è il protocollo iniziale per andare a riempire le riserve poi per andare a fare un mantenimento nei seguenti giorni si fa dai 3 ai 5 grammi al giorno per mantenere le riserve elevate questo è un pochino quello che si è visto che è quello che dà un pochino maggiore beneficio e cosa si è anche visto che per avere un miglior assoluto di creatina la cosa migliore è quello di abbinare l'ingestione di crap con un buon quantitativo di carboidrati e di proteine questo per promuovere il maggior assorbimento della creatina mi raccomando ogni volta che andiamo ad ingerire un quantitativo di creatina è sempre buona cosa indurre con un buon quantitativo di liquidi infatti si consiglia dai 300 ai 500 ml questa è un'idea di quanto ne consigliano quindi assumere la creatina per fare i punti assumere la creatina con una buona quantitativa di acqua sicuramente assumere la creatina con una buona quantità di glucosio giusto quindi di zuccheri e abbiamo visto che comunque c'è bisogno di un carico di creatina prima di 0,3 grammi per chilogrammo di peso corporeo indicativamente per 5-7 giorni e da lì in poi invece si va a tenere un quantitativo da 3-5 grammi al giorno per mantenere la dose di creatina stabile all'interno del muscolo giusto? sì ok, perfetto infatti quando si va ad integrare la creatina la cosa migliore è andarla ad assumere tutti i giorni sia i giorni in cui uno si allena sia i giorni in cui uno non si allena quindi bisogna prenderlo quotidianamente per mandato nel circolo quantitativo di creatina nei giorni in cui ci alleniamo per andare ad aiutare anche il nostro corpo a recuperare meglio quello di integrare la creatina sia prima che dopo il nostro allenamento e magari dopo allenamento con un buon tipo di carboidrati e di proteine questo è quello che ci fanno l'idea che ci danno ok di fatti ora volevo per far capire anche meglio e capire gli studi che sono stati fatti sulla creatina quello che abbiamo potuto che ho potuto leggere ho potuto capire che sia un buon miglioramento per esempio per il recupero quindi sia per il nostro che dalla nostra prestazione ci sono stati fatti diversi studio uno di questo è stato fatto dal Green con l'hanno visto che la somministrazione di 5 grammi di creatina con grandi quantità di glucosio fino a 95 grammi ha migliorato la conservazione di creatina e dei carboidrati all'interno dei muscoli quindi ha fatto sì che migliorava la conservazione all'interno del nostro muscolo sia del glucosio sia della creatina questo è stato gli studi dove hanno visto che il nostro muscolo riusciva anche a recuperare un altro studio che hanno fatto sempre per il recupero dopo un'unità fisica è stato fatto sempre da Nelson e colleghi dove hanno fatto uno studio dove hanno visto che facendo un carico di creatina prima di eseguire dell'attività e facendo anche un carico di glicogeno hanno favorito un maggior ripristino del glicogeno rispetto a chi faceva solo l'utilizzo post allenato carboidrati quindi hanno visto che degli atleti che post allenamento prendevano solo carboidrati e proteine e invece un altro gruppo prendeva carboidrati e creatina hanno visto che però era sicuramente il migliore per chi andava ad introdurre questi tre nutrienti quindi carboidrati, proteine e in più andava a integrare con la creatina questo è quello che hanno visto lo studio è quello che abbiamo già parlato un attimo fa che è quello del dosaggio consigliato e quello è stato l'ultimo ed è quello che ha avuto maggior controlli e maggior verifiche cioè quello dell'assunzione di fare una fase di carico e poi una fase di mantenimento Ok, quindi diciamo che appunto quello che abbiamo detto abbiamo visto che la creatina è un integratore chiamiamolo più supplemento in alcuni casi interessante proprio perché mi permette di avere energia disponibile subito e avendo magari una maggior concentrazione di creatina all'interno del muscolo posso favorire la velocità di risintesi della fosfocreatina che è quella che poi mi serve per creare energia per creare ATP quindi mi viene da pensare che tra una serie e l'altra di allenamento con i pesi il mio corpo sia anche più in grado di recuperare più velocemente se ho un buon quantitativo di creatina quindi questo mi permette di andare a fare più densità di allenamento quindi riuscire ad arrivare magari a fare anche più serie, più ripetizioni con meno recupero e quindi nel tempo di aumentare la massa muscolare giusto? Sì, giusto Ok Teo cos'altro ci vuoi dire sulla creatina? Teo ci sei? Mi sentite? Adesso sì, vai Ok questo allora come abbiamo adesso detto abbiamo parlato un po' dei quantitativi e via dicendo e quindi che migliora si è anche visto comunque della creatina ci sono stati anche diversi studi dove si è potuto vedere che andando ad integrare quindi un'integrazione con la creatina si possono anche prevenire degli infortuni come possono essere una riduzione dell'incidenza delle lesioni muscoloscheletriche e quindi si può anche andare a prevenire ad esempio dei crampi muscolari ad esempio ci sono stati fatti anche in questo caso sempre su dei dosaggi con la creatina monohidrato e visto che non c'erano né degli effetti collaterali anche con i raggi sopra quelli che abbiamo appena indicato e in più aiutava a prevenire tutte queste tematiche qua come potrebbero essere crampi infortuni oppure anche comunque anche la disidratazione dovuta anche magari da un allenamento abbastanza intenso ok quindi Teo per poter dare un'idea poi a chi si va ad allenare la creatina è utile o non è utile per aumentare la massa muscolare? Diciamo proprio l'aumento della massa muscolare come tutti pensano che basta prendere la creatina e riesco ad aumentare la massa muscolare così perché da quello che abbiamo già detto prima serve per migliorare quindi avere potenza o più forza durante il nostro allenamento ma non per andare a aumentare il nostro muscolo quindi aiuterà quindi ad avere più forza durante l'allenamento per andare a recuperare prima quindi avere più atp ma non per andare ad aumentare di volume il muscolo perché molti in palestra pensano prendo la creatina mi gonfio perché vado a trattenere più acqua no non è proprio così ok quindi quello che dobbiamo ricordarci è che ci può essere utile per riuscire ad aumentare anche i volumi di allenamento riuscire ad aumentare la densità di allenamento e quindi di conseguenza poi riuscire ad avere un aumento della massa muscolare quindi non è la creatina come tanti altri integratori che fa migliorare la massa muscolare ma bensì è l'allenamento unito all'integrazione o la supplementazione in questo caso quindi questo è un primo passaggio ricordiamo che comunque il protocollo necessita di un carico di creatina prima per 5-7 giorni per far sì che il muscolo cominci ad avere un livello più elevato di creatina poi per il mantenimento si possono introdurre da 3 a 5 grammi al giorno l'altra cosa che abbiamo visto che appunto può essere può essere interessante è che deve essere assunta comunque con un buon quantitativo di liquidi perché è importante perché altrimenti comunque la creatina può andare a disidratare se non ho il quantitativo adeguato di liquidi e cos'altro possiamo dire appunto che nelle persone che non hanno un'intensa attività sportiva non è necessario andare ad integrare con con la creatina è più importante magari andare a integrare se uno ha una dieta vegetariana o ancora peggio vegana qui in questo caso allora potrebbe potrebbe essere utile negli altri casi è utile quando andiamo a fare un'attività fisica intensa anche perché lì fa bisogno possono aumentare come abbiamo visto anche fino a 5-10 grammi al giorno di creatina dipende appunto dall'intensità abbiamo visto che intorno ai 450 grammi di carne giusto Matteo contiene il quantitativo di creatina di cui avremo bisogno senza fare attività fisica quindi con 1-2 grammi al giorno e abbiamo visto che è contenuta comunque anche nei molluschi in buona quantità quindi regole base sono avere delle fonti proteiche sicuramente quindi avere fonti proteiche animali quindi sicuramente della carne e del pesce dove c'è un buon contenuto di creatina eventualmente se si fa un'attività fisica intensa pensare a un'integrazione eventualmente se l'obiettivo è migliorare la forza perché appunto il lavorare migliorare anche la massa muscolare mi permette anche di migliorare la forza e potrebbe essere utile appunto fare una supplementazione di creatina quindi introducendone un carico prima e poi un mantenimento poi ecco un'altra cosa che mi viene da dire da aggiungere è che in ricerca anche qua non ci sono dati che dicano che la creatina faccia crei grossi problemi in persone sane ok l'altra cosa che volevo chiederti a Matteo ci sono dei quantitativi comunque limite che dovremmo introdurre dobbiamo stare un po' più un po' più attenti allora quello che come aveva all'inizio quello che si è visto che la tollerabilità di un individuo è quella massa che comunque non bisogna arrivarci è quella di 30 grammi al giorno lì si è visto che anche con 30 grammi al giorno per più di 5 anni non ha creato dei problemi però ecco non è che noi dobbiamo andare ad intendere così tanto come abbiamo visto il dosaggio giusto è di 1 grammi al giorno dagli 1 e 2 grammi al giorno per una persona che non fa dell'attività fisica quindi anche lì però da tutti gli studi che sono stati fatti anche se andando a assumerli per lunghi periodi non ci sono delle controindicazioni e non va a creare dei problemi ok ok quindi diciamo che ti abbiamo sentito diciamo che non ci sono grossi problemi né almeno con 30 grammi al giorno quindi potete è un integratore sicuro è uno dei più studiati quindi se volete utilizzarlo per migliorare comunque anche le vostre prestazioni migliorare la vostra massa muscolare il nostro consiglio è magari di inserirlo in una fase di forza dove dobbiamo cercare anche di aumentare riuscire ad aumentare i volumi il numero di ripetizioni e scusate il numero di serie con un numero di ripetizioni abbastanza contenuto e quindi abbiamo bisogno di recuperare anche velocemente tra una serie e l'altra ecco in questo caso riuscire a avere una buona espressione di forza quindi un recupero buono della fosfocreatina e un buon recupero anche a livello neuromuscolare perché anche quello è fondamentale nell'espressione di forza può essere sicuramente d'aiuto Matteo io direi che ti ringrazio ti ringrazio per la giornata di oggi se non hai null'altro da aggiungere no per ora grazie ancora a tutti grazie ancora a Matteo e grazie a voi